Buongiorno, sono in una stazione di treno di Naples con Alessandra che è la fondazione di Silvia Ruotolo Foundation. Ciao Alessandra! Ciao! Allora, mi racconti che cos'è questa fondazione Silvia Ruotolo? È una fondazione che quest'anno io e la mia famiglia abbiamo costituito in memoria di mia madre. Mia mamma, Silvia Ruotolo, è una vittima innocente della Camorra. Io avevo 10 anni, quando lei ha 39 anni è stata attinta da un proiettile. Ora, dopo 14 anni di distanza, abbiamo riutilizzato il risarcimento economico ottenuto dal processo penale che ha visto imputati i suoi assassini, nell'intento di ricordare il suo nome attraverso una fondazione per promuovere una cultura diversa rispetto a quella che ha ucciso mia madre. Come? E voi ho visto i sediti. Sì! Grazie.